Parliamo in questo video dell'epoca Giulio-Claudia. Parliamo cioè di un momento molto importante e delicato per la storia dell'impero. Ne parliamo cominciando dalla citazione di uno storico, di uno studioso che si chiama Andrew Pettinger, il quale parla del Principato come di una struttura fragile e in effetti successori di Augusto di questo dovettero presto rendersi conto. Lo studioso sottolinea anche come il Principato dipendesse in maniera molto evidente sia dal consenso che attorno si andava instaurando sia anche dalla capacità di sopportazione dei governati e sottolinea anche come il Principato sia stato spacciato per una sorta di rimedio alla crisi dell'epoca repubblicana e come i romani stessi a un certo punto lo abbiano accettato. E' una lettura questa che nasce anche dalle sollecitazioni di Tacito e dagli studi di Tacito. Dirastia Giulio-Claudia significa anche appunto successione ad Augusto. Augusto aveva nel corso della sua vita spesso affrontato il problema. Augusto aveva anche delle difficoltà, dei problemi di salute. Soffriva di fegato probabilmente la sua stessa morte nell'agosto del 19 agosto a Nola del 14 d.C. E' legata a queste patologie. Di fatto però le tre mogli che si alternarono al suo fianco durante tutta la sua vita, soprattutto Livia che è colei che poi Augusto amò e che secondo molti studiosi per tanto tempo fu la vera regina di Roma, l'imperatrice, Livia stessa gli diede solo una figlia, Giulia, che creò anche un po' di problemi al padre e che fu a un certo punto nelle mani del padre strumento anche per trovare una successione. Infatti Augusto fece sposare Giulia prima con Marco Claudio Marcello, che era figlio di Ottavia, che era suo nipote al quale aveva sicuramente guardato con grande fiducia per questa successione, e poi alla morte di Marcello, che se ricordate piangerà anche Virgilio Nelleneide, la diede in moglie ad Agrippa, generale amico di Augusto stesso, ma anche Agrippa in realtà non sopravviverà ad Augusto. In quegli anni a Roma stava emergendo anche la personalità di Druso, fratello di Tiberio. Lo stesso Tiberio peraltro si stava distinguendo, Tiberio che era figlio di Primo Letto, di Livia. In questa fase sappiamo che Augusto guardò anche a Gaio e Lucio Cesare, il corteo raffigurato sull'Arapacis, ci fornisce poi una sorta anche di immagine visiva di tutti questi personaggi che facevano parte della famiglia, chiamiamola così, allargata di Augusto. Di fatto anche Gaio e Lucio però moriranno, sicché resterà Tiberio, al quale darà in sposa Giulia come unico possibile successore. Tiberio che viene appunto da questa famiglia Claudia, Tiberio era figlio di Primo Letto appunto di Giulia che lo aveva avuto appunto precedentemente. Tiberio regna dal 14 al 37, il padre era un aristocratico appunto questa Gens Claudia, iniziò la sua carriera, il suo ruolo di imperatore anche con una certa moderazione, insomma una certa intelligenza. Poi qualcosa succede perché Tiberio viene sospettato a un certo punto di aver tramato contro Germanico, che era suo nipote, che era figlio di Druso, mentre Tiberio aveva un altro figlio che si chiamava Druso Minore. Diciamo che questo episodio cambia qualcosa, il comportamento di Tiberio tende ad essere più sospettoso, anche un po' più cattivo. Le fonti raccontano che si ritira a Capri, lasciando praticamente Roma nelle mani di Seiano, che era un suo stretto collaboratore, che a un certo punto poi cominciò a combinare di tutti i colori, tant'è vero che fu costretto poi a condannarlo a morte. Tiberio sperava appunto di poter portare al trono come suo successore Druso Minore, suo figlio. In realtà alla sua morte gli interessi del Senato, ma soprattutto dei pretoriani e dei legionari, convergono verso Gaio Cesare, che era il figlio minore di Germanico, probabilmente più per la stima e l'affetto nei confronti del padre che non per quello che questo ragazzo aveva fatto. Caligola, così appunto soprannominato proprio per un calzare militare che Caligola portava quando era ragazzo. Caligola regnerà solo quattro anni. I romani di lui non ebbero grande stima. Caligola morì per un complotto ordito peraltro dagli stessi pretoriani che lo avevano acclamato, probabilmente perché aveva voluto impostare il suo regno come una monarchia assolutistica, con una serie di eccessi, tra i quali quello di farsi adorare come un dio che i romani non poterono accettare. Alla sua morte, anche qui, ancora appunto si diceva il complotto dei pretoriani, si noti come l'esercito assume un'importanza sempre maggiore, anche la scelta dell'imperatore, viene scelto il fratello di Germanico e zio di Caligola, Claudio. Claudio era anche abbastanza anziano, siamo nel 41, quando sale al trono. Claudio era un erudito, era uno studioso, si era occupato di storie etrusche, aveva scritto delle cose, sappiamo che tra le sue conoscenze c'era stato lo storico di Toliva, insomma sicuramente più adatto come uomo di cultura e come scrittore che non come imperatore. A Claudio si devono comunque delle campagne, anche qui le campagne militari, a Claudio si deve tutto un tentativo di rafforzare i confini dell'impero, però insomma anche Claudio non riuscì poi più di tanto a interferire, benché il suo regno durò 13 anni, fino al 54 a un certo punto morì improvvisamente, la tradizione, le fonti vogliono che sia stato avvenuto da Agrippina, la quale insieme a Franio Burro voleva portare al potere suo figlio, il giovane Nerone, Lucio, Domizio e Noi Barbo. Nerone va appunto al potere nel 54, quando arriva al potere è un ragazzino, insomma poco più di un ragazzino e vive circa 17 anni in realtà, per cui è veramente molto giovane, vive un periodo inizialmente felice, il cosiddetto Quinquennium Neronis, periodo in cui probabilmente i consigli di Afranio Burro e la guida illuminata del filosofo Seneca portano Nerone ad una condotta tutto sommato moderata e positiva nei confronti di Roma e dell'impero. Poi anche qui qualcosa succede, cinque anni dopo Nerone fa uccidere la madre, Tacito racconta questa cosa con accenti tragicomici, contestualmente viene meno Burro, anche Burro muore in circostanze abbastanza oscure, e a corte comincia a prendere piede Tigellino, un personaggio molto particolare, ambiguo, ostile a Seneca, probabilmente anche per colpa del quale Seneca a un certo punto, siamo nei 62, si allontana dalla corte. E da questo momento in poi, diciamo dagli anni attorno al 62, il Nerone che la storiografia ci presenta sembra una specie di pazzo sanguinario che dedito a spettacoli, dedito a viaggi in Grecia, amava molto la Grecia, colpevole secondo le fonti nel 64 di un incendio, di aver appiccato un incendio a Roma per avere lo spazio per costruirsi la sua residenza. Di fatto, certo, Nerone in questi anni si segnala anche per una importante riforma monetaria con la quale, alleggerendo il peso delle monete d'oro e d'argento, diciamo che fa in modo che dà avvantaggiare i piccoli sparmiatori, i ceti meno abbienti, diciamo così, avvantaggiando anche, creando anche un vantaggio per lo Stato. Di fatto, nei confronti di Nerone si consolida una opposizione forte che si esprime, prima nella congiura dei Pisoni, che probabilmente mirava a sostituire Nerone con Calpurnio Pisone, un aristocratico romano, secondo altri addirittura con Seneca stesso. Di fatto, questa congiura fallisce, Seneca, Petronio e Lucano vengono condannati a morte, però Nerone non godrà a lungo di questo successo perché nel 68 un'altra rivolta delle legioni, prima in Spagna, poi in Gallia, porta ad acclamare come imperatore Galva. In realtà Nerone avrebbe forse ancora la possibilità di intervenire, ma si vede abbandonato, a un certo punto spaventato e in fuga, decide di uccidersi con l'aiuto di un suo liberto per non cadere nelle mani dei suoi inseguitori. Che cosa succede in epoca Giulio-Claudia? Diciamo che il primo fenomeno che è giusto considerare è il distacco, è la disgregazione che sicuramente va registrata, tra il potere e gli intellettuali. Il mecenatismo di fatto è finito, per essere più preciti. Non esiste più un personaggio come mecenata, cioè non esiste più un patronus, non esiste più un intermediario fra il princeps e i letterati, sicché il distacco che, diciamo, si era in qualche modo registrato sicuramente già in epoca austea, pensiamo a quello che succede con Ovidio, che non viene mai più richiamato a Roma. Bene, questo distacco si va facendo sempre più forte, sempre più pesante, direi in concomitanza con l'inasprirsi di certi atteggiamenti assolutistici del potere imperiale. Non è un caso, per esempio, che nel 25 d.C. viene processato e condannato, poi si suicida in realtà Cremuzio Cordo, che era uno storico che aveva scritto un'opera storica nella quale l'impostazione filorepubblicana lo aveva portato a esaltare gli uccisori di Cesare. Non è un caso che poco dopo si uccide anche Emilio Scauro. E qua la cosa forse è ancora più significativa perché Scauro è un poeta, quindi aveva scritto una tragedia che si intitolava Treo, nella quale probabilmente alludeva con questa figura di questo mitico personaggio della tragedia greca anche al tiranno, insomma, agli atteggiamenti tirannici dell'imperatore. Ma è interessante, per esempio, anche il fatto che Svetonio, nella vita di Caligola, ci racconta, questa è la citazione, Atellane Poetam, Ob Ambigui Yoshi Versiculum, Median Fideate, Arena, Igni, Crematit. Praticamente Caligola, secondo la fonte di Svetonio, secondo l'informazione che ci ricostruisce Svetonio, avrebbe fatto bruciare vivo in teatro un poeta di Atellana per un gioco di parole, insomma. Quel Ambigui Yoshi Versiculum è una specie di gioco di parole. Possiamo pensare a qualche battuta ambigua nei confronti degli imperatori. Insomma, di fatto, quello che si vede è che gli imperatori non riescono più a costruire un rapporto con gli intellettuali. E come si è detto prima, cominciando appunto questo video, questa lezione, il consenso invece era fondamentale per l'imperatore stesso. Sicché ci troviamo di fronte a un bivio, o meglio, i letterati si trovano di fronte a un bivio. Ci sono letterati quali decideranno di prostrarsi davanti all'imperatore, quindi la durazione cortigiana, quindi il letterato che si mette al servizio del potere. E ci sono quelli che invece cercheranno la strada del dissenso, la strada dell'opposizione. Questo perché appunto né Tiberio, né Claudio, né lo stesso Caligola ebbero la capacità, forse anche la voglia, la volontà di costruire quel punto e quel rapporto che invece Augusto aveva fatto. C'è da osservare che Nerone invece questa cosa proverà anche a un certo punto a farla, anche se qua poi c'è tutta una interpretazione possibile da parte degli storici. Nerone amava la poesia, amava le lettere, fu amico di Lucano e di Petronio, Stette per un primo tempo accanto a Seneca, poi però anche lui nei confronti dei letterati assunse un certo tipo di posizione. Verrebbe da dire che questa posizione è legata anche al fatto che tutti questi imperatori della dinastia Giulio-Claudia hanno la necessità di legittimare una posizione che è sempre più difficile da legittimare, cioè di dimostrare ai Romani che la loro presenza è indispensabile, e che la loro presenza è necessaria, che la loro presenza ha una qualche motivazione, cosa che appunto Augusto aveva potuto fare, cosa che loro non riescono a fare. C'è anche da dire, c'è anche da osservare che noi giudichiamo questi imperatori della dinastia Giulio-Claudia sulla base della storiografia antica, in genere filosenatoria, quindi abbastanza ostile a questi personaggi. Certo, le fonti ci dicono che ne combinarono molte da questo punto di vista, quindi più fattori e più elementi concorrono a restituirci le figure che abbiamo. Un elemento importante in epoca Giulio-Claudia fu la presenza della filosofia dello stoicismo, stoicismo che diventa una filosofia ambigua. Perché ambigua? Perché lo stoicismo alimenta sia l'opposizione sia la vicinanza all'imperatore, nel senso che da una parte lo stoicismo è quella filosofia che credendo in un us, in una mente, in un principio, come dire, organizzatore, in un principio di armonia dell'universo, vede nella monarchia la forma di governo migliore. Insomma, questo era un po' nelle corde, nei dettami dello stoicismo. Per cui inizialmente lo stoicismo per alcuni filosofi, per alcuni intellettuali, fu anche la ragione per spiegare la vicinanza all'imperatore. Pensiamo alla Primo Seneca e all'utopia, anche platonica, del Princeps illuminato dal filosofo. D'altro canto, però, lo stoicismo, se visto invece nell'accezione di una severità morale, di un rigore morale, di una capacità da parte del saggio di affrontare in maniera imperturbabile le avversità, mantenendo però un certo tipo di rigore, mantenendo un certo tipo di comportamento, pensiamo per esempio al personaggio di Catone e la falsaria di Lucano, beh, lo stoicismo diventa anche l'ideologia che guida il dissenso. Per cui c'è questa ambiguità, ambiguità che a un certo punto, va detto, tende a piegare più nella direzione del dissenso e dell'opposizione, al punto che durante l'epoca dei Flavi lo stoicismo viene addirittura, la filosofia in realtà non lo stoicismo, ma la filosofia in genere, viene appunto messa al bando perché viene considerata pericolosa. Quali sono i generi letterari che noi troviamo in questo periodo? Diciamo subito che si oscilla fra tradizione e innovazione nel senso che si ripercorre per esempio la strada dell'epica sotto i Flavi e ci sarà un tentativo di riproporre il modello virgiliano, per esempio, che è un modello non solo letterario e culturale, ma anche politico, di vicinanza con l'imperatore. Quindi generi come l'epica, come la satira, quindi generi che avevano già brillato, nel passato di Roma vengono riproposti. D'altro canto, opere come il Saturigon di Petronio ci dicono che c'è anche una volontà di innovare, di cambiare, di cercare e trovare strade nuove. Il tutto però sempre condizionato dalla retorica. Questa è l'epoca delle declamaciones, delle recitaciones, cioè di una serie di, chiamiamole, conferenze, insomma, di incontri che avvenivano in sale di lettura in cui i poeti declamavano i loro versi, più con l'obiettivo di far apprezzare loro capacità di scrittura, loro retorica, che non appunto la qualità o la solidità di un pensiero. Certo è innegabile che quest'epoca Giulio e Claudia esprime letterati che, come si diceva prima, sono vicini al consenso, per esempio Velleio Patercolo, Valerio Massimo, cioè letterati che cercano, ad esempio, nella erudizione spicciola e nell'antiquaria, in discipline, diciamo così, lontane dalla realtà, appunto, cercano una fuga dalla realtà e cercano di non prendere una posizione rispetto a tutto quello che sta accadendo, per cui riprendere certi geni letterari legati soprattutto all'erudizione, penso per esempio a Manilio, agli Astronomica, un certo tipo di storiografia aneddotica, significa non prendere posizione, può significare, per esempio, elogiare gli imperatori e mantenere un atteggiamento di vicinanza. D'altro canto, invece, si diceva chi come Seneca, chi come Lucano, come Petronio, sceglie strade diverse, provando anche a sperimentare sulla base dei modelli del passato, esprimerà anche un dissenso nei confronti dell'imperatore. Su tutto, però, la retorica, perché dal I secolo d.C. la retorica diventa assolutamente fondamentale per la cultura romana e vedremo come, a un certo punto, anzi, letteratura greca e letteratura romana, da questo punto di vista, saranno assolutamente unite, nel peso che a un certo tipo di costruzione del verso, del periodo, assumerà nel I secolo e in epoca imperiale.